euro, euro in cadetro 50, 50 euro non lo so, se vuoi non lo ha fatto non lo muovere però non lo so se ci copreste 4 euro il mio i i i i i Grazie. 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 Grazie a tutti. Martello sono l'occhiato, mi piaceremo! Non lo so, non lo so 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 Non lo so